John Borne ragazzi John Borne benvenuti in questo nuovo video benvenuti allora partiamo subito belli carichi perché avrete letto il titolo insomma in questi giorni si sta parlando di Italia chiaramente si sta parlando di qualcosa di calciomercato ma soprattutto si sta fortemente avvicinando quello che è il mese delle conferme ovvero febbraio e febbraio è il mese ultimatum in cui capiremo il futuro della Roma ma soprattutto il futuro di Giuseppe Murigno a Roma a giugno Murigno ha il contratto in scadenza quindi di regola sulla carta dovrebbe andare via dovrebbe lasciare la Roma dovrebbe non rinnovare il contratto che appunto lo lega alla Roma e che dovrebbe andare in scadenza a giugno vanno capite però poi delle cose perché perché il contratto può essere sempre rinnovato perché sono situazioni che andrebbero ponderate che andrebbero valutate perché bisogna capire se la Roma vuole continuare con Murigno se Murigno vuole continuare con la Roma però qual è il nodo cruciale il nodo cruciale è che a giugno il contratto scade ora facciamo un attimo di chiarezza partendo dal presupposto che chiedo a voi se voi rinnovereste o meno il contratto a Murigno e chiaramente molti mi diranno no 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 perché Murigno è tipo una delle figure più odiate del web al di là di questo chi prendereste qualora non ma chi è che mi rompe i coglioni tutte le volte madonna che palle oh mamma mia chi è che prendereste se decideste di non rinnovare Giuseppe Murigno fatemelo sapere con un commento qua sotto detto questo entriamo nel discorso Murigno regà è stato oggettivamente preso con un piano triennale il piano triennale che arrivava a compimento quando quando dopo tre anni se la Roma non era mai andata non sarebbe mai andata in Champions League non fosse mai andata in Champions League appunto Murigno sarebbe stato allontanato quindi c'era un piano triennale in cui Murigno doveva andare in Champions League poi ho letto un sacco di roba gente diceva ma non è vero il piano di Murigno era quello di vincerlo scudetto no non è vero follia follia il piano di Murigno nei tre anni era quello di riportare la Roma tra le squadre che facevano parte della Champions League però oggettivamente dopo tre anni Murigno non ci è mai riuscito certo manca un anno ancora manca questa stagione qua è molto difficile che accada visto che la Roma insomma naviga tra settimo e ottavo posto però comunque non è ancora finita detto questo questo è l'obiettivo nel piano triennale quindi se lui a fine anno non arriva in Champions League ve lo dico con grande chiarezza ve lo dico dal primo momento è giusto che vada via che poi era un discorso che avevo fatto anche con Fonseca io dicevo la stessa cosa quando Fonseca ha fatto due anni a Roma io dicevo ragazzi Fonseca c'ha due anni nei due anni c'è l'obiettivo di andare in Champions League ci va il primo anno? no non ci va il primo anno rinnoviamo cioè aspettiamolo per il secondo perché ha un altro anno non ci va per il secondo anno? ciao perché ha un piano biennale dove alla fine del piano bisogna andare in Champions League qualcuno mi dirà sic ma perché Fonseca ha un piano biennale mentre Murigno ha un piano triennale? molto semplicemente perché Fonseca quando ha preso la Roma arrivava da un percorso in cui la Roma andava sempre in Champions League sempre l'anno prima di Fonseca la Roma era in Champions League quindi non c'era manco quella paura di dire forse addirittura il primo anno con Fonseca la Roma forse no forse già con Di Francesco e quel passaggio lì la Roma già non ci andava più in Champions League però comunque già l'anno prima la Roma andava in Champions League ha fatto prima la semifinale poi l'ottavo di finale mentre Murigno l'ha presa con una Roma che erano tre anni che non faceva la Champions League quindi magari bisognava avere più tempo per ricostruire il progetto ora qual è il discorso? ci sono tre strade possibili che potrebbero aprirsi da qui a fine anno per il discorso rinnovo di José Murigno la prima strada è che né i Friedkin né Murigno vogliono arrivare ad un accordo cioè questo è quello che io provo a pensare ed è possibile cioè è possibile che Murigno si sia rotti i coglioni se ne voglia andare è possibile che i Friedkin si siano scassati la minchia di comprare 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 non arrivare mai all'obiettivo e che appunto vogliano cacciarlo oppure che semplicemente i Friedkin vogliano aspettare la fine del contratto no dire aspettiamo la fine del contratto vediamo la situazione valutiamola che secondo me è assolutamente lecito visto che loro sono quelli che calciano il grano e invece magari Murigno non è contento di questa cosa qui o comunque non sappiamo se è contento ma se non hanno ancora rinnovato il motivo potrebbe anche essere questo qua cioè i Friedkin dicono abbiamo messo nero su bianco un piano triennale in cui tu nei tre anni devi arrivare in Champions League se non ci arrivi ti do un grosso abbraccio se ci arrivi ti rinnovo oppure l'ultima potrebbe anche essere che in realtà ci sono tutti a pià per culo e Murigno e Friedkin hanno già trovato un accordo ma semplicemente non ce lo dicono perché in questo momento non c'è bisogno di mettere altra carne al fuoco anche perché se oggi vi faccio un esempio ci annunciano che la Roma ha rinnovato il contratto di Murigno raga quanti ne parlano? Tantissimi cioè non è una cosa tipo che so che magari la Fiorentina rinnova il contratto di Vincenzo Italiano o la Lazio rinnova il contratto di Maurizio Sarri cioè un contratto di Murigno che scade tra sette mesi con la gente che insulta Murigno da mesi se la Roma rinnova il contratto a Murigno se ne parla e se ne parla e se ne parla quindi potrebbe anche essere questa terza qui l'ipotesi chiaramente io l'ho già detto a più riprese esonerò la stagione in corso assolutamente no cioè veramente per esonerare un allenatore lo dico sempre infatti non ero d'accordo manco con Garzia poi ha rotto con la piazza va bene ha rotto i giocatori va bene però per me per esonerare a stagione in corso specialmente se sei una grande ma in generale devi essere arrivato ad un punto di non ritorno cioè la piccola che esonera la capisco se si trova in zona retrocessione e si caga addosso perché si rende conto che sta rischiando di retrocedere posso capire un Napoli si è settimo, ottavo, nono e ha fatto delle spese e ha degli obiettivi per cui è obbligato ad andare in Champions League e si rende conto che non ci sta andando allora cambia allenatore ma la Roma in questo momento non ha l'obbligo di andare in Champions League ha il grande obiettivo di andare in Champions League che sarebbe importante raggiungerlo però oggi cambiare in corsa secondo me non te porterebbe veramente a niente se non ad avere ulteriori problemi quindi esonerò a stagione in corso assolutamente assolutamente no vi posso dire la verità l'errore secondo me, quell'errore che sta facendo Mourinho in questo momento un pochino sebbene la Roma insomma, ve lo dico prima e poi vi dico il sebbene è di non rendersi conto che in questo momento la Roma potrebbe anche un po' di più giocare a pallone cioè quando lui è arrivato avevamo una squadra ai piedi di Dio ed è la verità ed è lo stesso motivo per cui vi dico che per quanto poi i tifosi gioventini possano lamentarsi di Massimiliano Allegri Allegri con la squadra che c'ha se gioca al calcio, quindi questa gioca con spalletti, non è seconda perché? Perché ha le sue defezioni e Allegri si rende conto che la squadra gira bene ma che c'ha anche dei paracarri di merda in campo con tutto il rispetto e che quindi è obbligato delle volte a fare un gioco di sacrificio per portare a casa un punticino, un brutto, un a zero perché altrimenti la Juventus giocherebbe meglio arriverebbe comunque in Champions ma sarebbe a meno 6, a meno 7 dall'interno gli starebbe appresso quindi questo è un discorso che ci può stare il problema qual è? il problema arriva quando? se tra 3 o 4 anni che magari alla Juve c'è ancora Allegri la Juve ha comprato Gesù e tutti gli altri in campo in quel caso se tu continui a giocare come giocavi 3 anni fa perché avevi i McKennie, perché avevi i Gatti perché avevi i Rugani, perché avevi i Gambiaso allora lì, nulla contro quelli 4 che ho citato ne ho citato i 4 che credo non abbiano mai vinto lo Scudetto ecco, in quel frangente lì allora secondo me tu stai sbagliando ecco, Murigno forse potrebbe provare a dare non dico tanto, un piccolo lumicino di gioco in più a questa Roma visto che non parlo di gioco spumeggiante parlo di non spazzare il pallone alla ricerca di Lukaku che ti fa una sponda e che ti tiene il pallone in avanti detto questo va detta anche un'altra cosa che questa cosa la voglio sempre sottolineare io se domani mi immagino una Roma che cambia allenatore e che vuole arrivare in alto raga, la Rosa va praticamente rivoluzionata cioè la Rosa va praticamente cambiata in toto cioè tu ok, c'hai Lukaku poi però tutti gli altri sono un mix tra giocatori mediocri quindi i Selic, i Garsdorp, i Christensen, i Zaleski i Paredes, i Kumbulla, i Llorente tutti giocatori mediocri niente di eccezionale niente che giocherebbero nelle prime quattro del campionato mischiati ad altri forti ma che tu hai scelto prendendoli rotti perché quando Murigno si presenta in conferenza stampa e dice eh però, comunque va detto che c'hiamo un terzo di Dybala, un mezzo di quello un quarto di quello quelli li hai presi tu però è vero pure che ce li hai e quindi ti pesa perché comunque non posso pensare di programmare una stagione con Dybala davanti titolare e con Awar e con Renato Sanchez se poi Awar me fa 18 partite Renato Sanchez me ne fa 14 e Dybala me ne fa 19 su 38 inizia ad essere un peso perché poi sono costretto a buttare dentro i Pagano i Pisilli e magari quei punti lì vanno anche persi detto questo io penso che insomma Murigno debba un attimo dasse una regolata nel senso lui le sue possibilità ce le ha avute adesso per me dovrebbe anche capire che forse sarebbe il caso di mettersi un po' a disposizione della società però da quello che leggo Murigno invece non aspetterà i Friedkin oltre febbraio ha dato il 28 febbraio così pare come termine massimo in cui aspetterà la Roma poi inizierà ad ascoltare delle offerte io vi dico la verità cioè se è così cioè se Murigno non arriva alla Champions League che sia la Champions League nei primi quattro posti o la Champions League vincendo l'Europa League o la Champions League arrivando quinto ma con l'agevolazione del ranking eccetera in quel caso per me è sempre rinnovo anche perché vi dico la verità io ho una stagione rinnovo annuale non quinquennale però io ho una stagione di Champions con Murigno poi per tutto quello che si è detto me la vorrei vedere cioè una Roma in Champions con Murigno mi piacerebbe vederla la Roma che alza il livello e vedere se tiene quel livello lì dell'Europa League della Conferenza League mi piacerebbe vedermela però chiaramente ci devi arrivare se non ci arrivi se non ci arrivi purtroppo ti devo dare il ben servito perché lì poi si deve aprire un altro ciclo un altro perché qualcuno quando diceva ciclo ma non avete vinto niente non ho detto ciclo vincito ho detto ciclo un progetto un progetto un ciclo inizia e finisce può essere anche il ciclo del Frosinone può essere anche il ciclo dell'Empoli ok cioè quando tu applichi un piano pluriennale stai sempre mettendo in mano a qualcuno un ciclo anche tipo per dire il ciclo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è un ciclo non ha vinto nulla per il momento ha perso anche i finali Coppi dalle Conferenze League però è un ciclo quindi se fallisce non va in Champions League per me bisogna aprire un nuovo ciclo cambiare sicuramente qualcosa ed è fondamentale farlo poi chiaramente è giusto per me che i Fritkin invece vogliano aspettare giugno vogliano rendersi conto se la Roma andrà in Champions League oppure no ma perché a febbraio metti che la Roma a febbraio mi è quinta a meno uno dal quarto posto e a più uno dal sesto posto ed è agli ottavi o ai quarti quello che è di Europa League ma perché ti devo rinnovare il contratto che magari poi mi esce ai quarti di finale di Europa League e mi arrivi settimo cioè è una cosa che non ha senso io capisco anche che Murigno dica a febbraio ti aspetto dopo febbraio io varo le varie offerte poi anche se arrivo in Champions League se ho accettato qualcos'altro e me ne voglio andare me ne vado ma è giusto che sia così cioè nel senso il contratto va in scadenza nessuno ti lega alla Roma obbligatoriamente a rinnovare magari con un colpo di non so cosa da qui a fine anno le vinci tutte vinci lo scudetto però io non ti ho rinnovato il contratto te ne vuoi andare va bene così per me non c'è problema quindi non è che direi a Murigno no devi aspettare la Roma fino a giugno fai le tue valutazioni però secondo me non c'è niente di scandaloso o di sorprendente riguardante il fatto che in questo momento i Friedkin non si sentano di rinnovare il contratto ad un allenatore che ad oggi oggettivamente non è mai arrivato in Champions League come avevamo programmato tu ti devi guadagnare il rinnovo e non averlo per grazia ricevuta e quindi per me è fondamentale che da qui a fine anno si vedano i progressi che deve fare Murigno con la Roma io vi dico la verità ve lo dico chiaramente con grande chiarezza vorrei Antonio Conte ma uno mi risponderà grazie al cazzo ma è chiaro che sia così cioè Conte è forse l'allenatore generalmente più forte e svincolato in questo momento ma è anche secondo me un allenatore adatto per una piazza come Roma che è calda e quindi la tiene per il guinzaio è un allenatore che nonostante insomma sappia farsi rispettare un po' come Murigno fa anche da anche un gioco alla squadra e poi è un allenatore che oggettivamente secondo me negli anni ha dimostrato di essere uno di quelli che ti prende e ti ricostruisce quindi è un allenatore da costruzione non da affermazione si dice così non da conferma ma da ricostruzione e l'unica cosa che mi spaventa ve lo dico preparatevi è che Conte se P Conte a giugno per me al 90% va in Champions League a fine anno però poi quando va in Champions League esce Gironica quindi è quello perché è sempre stato quello Conte ha sempre fatto quello con qualunque squadra quindi non mi sorprendo è perfetto sarebbe perfetto per questa Roma però non vi nego come la squadra e ve lo dico con grande chiarezza andrebbe smantellata se io mi devo immaginare Conte che arriva a Roma prende sta squadra no cioè non ci azzecca niente io mi immagino che tu dai via Rui Padrisi e Svilar mi immagino che tu prendi un portiere giovane tipo Falcone che è romanista fragico tra l'altro e poi un vecchio da mettergli dietro che se Falcone non rende tipo un consigli ti può far bene anche se poi il mio nome perfetto quello che proprio io vorrei che andrei però non lo prendi perché dov'è gioca di tanto in tanto è Perin cioè per me Perin lo prendi è uno dei top 3 portieri della serie A però è alla Juve la Juve lì intercambia lui sta bene lì prendi i suoi soldi se vince qualcosa vince quindi va bene così poi pure in difesa c'hai Mancini c'hai Smalling c'hai Llorente c'hai Indica ok Kumbulla non te lo caga nessuno perché è rotto dal 2040 però se tu fai il 3-5-2 tu non puoi stare così a te ne serve uno Schurz per dirti serve investire su un difensore che ti alzi il livello perché oggi tu non hai una difesa da Champions League le fasce tutti via c'è il Christensen cediamolo Kastop va ceduto Selic va ceduto Spinazzola me lo puoi anche tenere ma come panchinaro proprio cioè proprio devi andarmi a prendere dei titolari diversi Zaleski non in quel ruolo cioè Zaleski è inutile che noi continuiamo a dire eh ma non è il suo ruolo gioca lì da 30 anni allora cambiamo gli ruolo e smettiamo di dire che non è il suo ruolo e io lì prenderei e scena qui me lo tengo io lì prenderei gente come può essere Gosens a sinistra per me farebbe il devasto ma può essere strefezzo dalla parte opposta che tra l'altro lei ci sta già andando anche poco sono due giocatori che per me con Antonio Conte potrebbero veramente spaccare qualunque cosa ma pure in mezzo al campo va bene Cristante va bene Pellegrini va bene Paredes posso tenermi anche Renato e Awar ma con la consapevolezza di dire quei due sono sempre rotti quindi io non ce l'ho li metto ma i miei titolari sono gli altri Paredes per me se ne deve andare immediatamente e poi vorrei uno che sappia stare davanti alla difesa fare il vertice basso vi faccio il nome di Amarabat che è un giocatore che per me con Conte overperformerebbe e poi davanti secondo me i problemi non ne hai perché ok Di Bala che però è sempre rotto ma poi c'hai Lukaku se lo tieni c'hai Yasmin c'hai Abram c'hai che tornerà c'hai El Sharawi cioè gli attaccanti ce li hai e fare una rosa tipo che ne so Falcone poi Schurz, Smalling uno tra Mancini e Indica Cristante Amrabat, Pellegrini con Strefezze e Cosen sulle due fasce Lukaku e Di Bala per farvi capire c'è una rosa che secondo me con Conte e con quello che Conte ti porta riusciresti anche ad arrivare in Champions League oggi Sport Italia fa un altro nome lo fa ufficialmente Sport Italia ed è quello di Vincenzo Italiano che vi dico la verità non mi dispiacerebbe non lo reputo in questo momento nemmeno il braccio destro di Antonio Conte chiaramente è un allenatore che gioca bene leggo Sport Italia dice in italiano piace alle big chissà se si inserirà anche il Milan De Laurenti dopo Spalletti l'avrebbe preso ma lui insomma non ha voluto andare ad incrinare i rapporti con Commisso e con Barone però si è parlato anche della Roma tra le altre cose e non mi dispiacerebbe sapete qual è l'unica cosa negativa di Vincenzo Italiano che per me è fortemente negativa è che lui non riesce a tenere in mano delle gerarchie cioè alla Fiorentina lui c'ha 4 difensori centrali li fa giocare a tutte e 4 lui alla Fiorentina c'ha 6 centrocampi li fa giocare a tutte e 6 e una partita ne giocavano 3 poi ne giocavano 3 davanti chi è il titolare? Beltrán non so l'ha cioè oltre a Nico González chi è l'attaccante che gioca sulle fasce titolari? ce l'hanno? non lo so anche sulle fasce ora vabbè si è rotto Dodò quindi sono rimasti quelli ma una volta gioca Dodò e Biraghi una volta Biraghi e Parisi una volta Parisi e Dodò a difesa ci stanno tutti ecco la mia paura vi faccio un esempio è che se la Roma si presenta con Ndika, Mancini, Smalling con Bulla, Schurse e Llorente che sarebbero 6 per 3 ruoli cioè una squadra che fa 3 competizioni ci sta che le faccia lui li alterni tutti proprio senza una base cioè se tu mi metti sempre Ndika, Mancini e Smalling in campionato e poi Schurse con Bulla e Llorente in Europa League ti dico vabbè ci sta ma lui io lo vedo lo vedo con la Fiorentina cioè lui indipendentemente che giochi la Fiorentina la Serie A o la Conference League c'è possibilità che a Fiorentina a Fiorentina a Juve vada a mettere due difensori centrali e poi a Milan a Fiorentina altri due che ci azzeccano un cazzo e questa è una cosa che non mi piacerebbe perché secondo me tenere una un'ossatura tra centro campo difesa eccetera ti rende sicuramente più forte ti rende sicuramente più competitivo quindi questo sarebbe un piccolo mallus di italiano io vorrei Conte però insomma questo è e queste sono le novità fatemi sapere la vostra iscrivetevi mi raccomando al canale grazie per aver visto questo video buon sceladale come sempre ci vediamo al prossimo video